Asterix e Obelix al servizio di sua maestà. Questo titolo ci serve un po' come teaser per ricordare a quelli che ancora non se ne fossero accorti che domenica comincia il nostro ciclo doppio su 007, ma di questo parleremo appunto domenica. Andiamo su Asterix e Obelix che anche loro fanno parte di una saga importante, una saga che si è sviluppata nel cinema tra cartoni animati e film live action dal vivo come quello che vediamo oggi, sia pur costellati di effetti speciali, e che anche in questo caso è tratta da una saga letteraria, sia pur disegnata, la saga fumetti di Asterix il Gallico, che è forse il personaggio più celebre del fumetto francofono, creato negli anni 50 dallo sceneggiatore René Gauchigny e dal disegnatore Albert Uderzo, che l'ha disegnato per quasi tutta la carriera fino a dopo la morte di Gauchigny, ha poi proseguito scrivendo o almeno firmando le storie e in tempi recenti ha abbandonato, si limita a mettere il nome a lasciare che insomma il personaggio prosegua la sua vita. Asterix lo conoscerete tutti, è un guerriero gallico che in un piccolo villaggio resiste insieme ai suoi amici all'invasione dei romani grazie a una pozione magica che dà a tutti quanti una forza sovrumana, una pozione che non può bere il suo amico Belix, che è un grosso ciccione perché ci è caduto dentro da piccolo, quindi gli effetti su di lui sono permanenti. I fumetti sono bellissimi, sono veramente belli, sono strapieni di riferimenti culturali, giochi di parole e di stratificazioni anche tematiche, sono perfetti per i ragazzini ma piacciono anche agli adulti. Al cinema c'è stato un po' di semplificazione, sono stati trasformati in film più per bambini ma anche questi strapieni di citazioni. Il film che vediamo oggi, che è appunto Asterix o Belix al servizio di sua maestà, è quasi un remake se vogliamo, un bi-remake perché è tratto da due albi della saga, Asterix e i Britanni del 66 e Asterix e i Normanni del 70, due albi che però sono già stati portati sullo schermo con i film Asterix e la pozione magica e Asterix e i vichinghi. Quindi se vogliamo è un remake, si impastano insieme due storie, un po' come succede in certi film di Batman in cui un cattivo non basta, ne devono mettere due o tre insieme e diventano circa tre piste, però il gioco è sempre quello, vedere con piacere Gerard Depardieu e che è perfetto nel ruolo di Obelix, vedere gli effetti speciali e vedere i grandi attori che si prestano a gioco come Catherine Deneuve che fa la regina dei Bretoni e si capisce che può veramente fare tutto, ma anche Fabrice Lucchini che è un grandissimo attore specializzato in cinema d'autore introspettivo e che qua fa Giulio Cesare. E niente, godetevi Asterix e di Obelix in attesa di 007 questa domenica.